I like a punk rock chick, with hands just like Rihanna, like a go-go girl, who dance like Lady Gaga, they the girls that start the party. So baby, could it be your team? Could it be your baby, you'd be your team? Bisogna tendere ai fatti spiacevoli per capire che anche nel mondo dei VIP ci sono le lacrime e che i soldi non sempre salvaguardano la salute. È successo a Cassano di passare dal campo ad un letto d'ospedale e senza nessuno scontro di gioco, ed è successo alla moglie, divisa tra marito, già operato venerdì, ed il figlio letto di soli sette mezzi. Questa volta non è una Cassanata, è una patologia diffusa che viene chiamata forame ovale perdio. Individuare questa malformazione è possibile, basta sottoporsi a degli esami specifici, come l'ecocardiogramma o il color doppler. Allora, facciamo tesoro di tutto ciò che ascoltiamo e non iniziamo annate agonistiche senza consultare il medico sportivo, anche se ci sentiamo in ottima forma.